Durante questo periodo di quarantena tutti quanti i rapper si stanno cimentando nel covid freestyle che è appunto una sorta di challenge lanciata da Amy Schilla sul suo Instagram dove in 40-50 secondi i rapper più famosi d'Italia propongono un loro freestyle al tema coronavirus alla gente che li segue. Durante quello di Beba però c'è stato un qualcosa di particolare, infatti una barra in particolare modo sembrerebbe essere un dissing nei confronti di una determinata categoria. Vi faccio vedere il freestyle e poi vi spiego meglio. Ma avrete visto l'ultima barra fa un palese riferimento a una tendenza dell'ultimo periodo, ovvero le tiktoker che si mettono a fare musica rap e effettivamente fanno i numeri e sfondano. Per questo abbiamo appunto Anna Pepe che con Beba ha ormai toccato i 10 milioni di streaming. Tra l'altro ha anche commentato il post facendo i complimenti a Beba e moltissime persone hanno fatto notare che una delle barre era rivolta a lei. Quindi ora la domanda è il dissing di Beba era rivolto a Anna Pepe oppure a qualcun'altra come magari può essere una Marta da dato che però non ha avuto la rilevanza mediatica in numeri di una Anna che comunque con Bendo ha fatto numeri assurdi alle stelle. Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto con un commento su questa storia. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio.